Ciao a tutti ragazzi, ben tornati da Pino89. Oggi siamo su PES, arriviamo a 7. Mi piace, vi porterò un altro episodio dell'Opera con l'Olanda. Raga, ci tengo molto. Ci tengo molto, raga. Iscrivetevi perché è gratis. Mi capito? È gratis. È perché questi giorni e mi sto facendo quale mi serve, se ne vendo uno. Iscrivetevi, faccio favore. Io ci tengo molto. Però, si comincia! Osta, l'Olanda, seconda giornata, sei europeo. Alla qua. Alla qua. Scusa però, del ronno, da con l'Olanda. Alla partita l'Olanda, sfaticata molto con l'Ucraina. Però c'è il grande intera di Ong. Traversarete. E si dice. Tutto in Alaba però. Vai, Ghezio. Che riset miracolo già subito. Va, Dick no. Dovevo evitare l'angolo. Alla partita l'Olanda. Però, stagione è Alaba. C'è un po' il piede a sinistra. Stagione? Caio, si! Quindi riserve. Va, Dick! Attacca l'Olanda. Depay. Stagione è Depay. Depay. Attacca. Palla verso Blin. L'Olanda. L'Olanda. Grazie. Palazzo Van Dijk. Devon. Guarda qui, Depay. 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 Depay! La difesa può creare un sospiro di sollievo. Qua l'Olanda è... Non è sì, lo... All'Astria... Vandeback... Blind... Palla verso... Depay... Depay, fa il tiro... Iracolo... Lo si salva... Depay... Giocatore del Leon... Tra poco farò... Una live... Volete con un certo attenzione... E tra poco farò... Un torneo di FIFA... Un torneo di FIFA... Te lo dico poi... Quale volete volerlo... Uno passaggio in avanti... Che gioco... Blind... Blind... Deron... Palosso... Varadumo... Varadumo... A te te lo vada... Aggraccio... Depay... 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 Che gol... Depay... Che collasso... Grandi giocatore... Depay... Che giocatore... Depay... 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 Grand dah pack... Doi! Le motivazioni fanno sempre la differenza... Lai... Qui stasco... Trieste... Sti... Distrogenamente... Attento... Un go... Sub- Power... Fronte Wright... Forte stripe... Fronte... Barco... Vorogo... irtur... Tirostalco... Non mi manda vecchi... Alamo... l'alaba ancora lui grazie alaba vado verso De Jong gioiellino di Barcellona ex-taillet De Jong dunque lo so adembeck 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 si serve ancora l'ostia bella questa parola ve lo va Liner vado con lo chiude vado verso Zabby bleed lo chiude vado verso vado con lo chiude vado 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 con lo chiude troppo lunga qua c'è il clavista d'oro sovranto vado un muo carattina giopalo dice l'albitro vado con lo chiude vado con lo chiude pari vado con il ciclo vado l'indale vado con il gioco vado con il gioco di De Pai troppo corta il suo sguardo di scusa il compagno dice veramente tutto quel gioco netto De Pai De Pai l'indale vado con lo chiude continuo ad andare, vado a piede cerca il numero Van Dijk chiude con sbaglio vado a Van Dijk te rodo per te ordine tazzo vado all'olanda ripartezza sarà lunga però ma c'è blind da lì tu lo so raddo tazzo vado all'olanda vado a random vado a questo Van Dijk Van Dijk e passa qui intervento difensivo molto tempestiva interrotto l'azione d'attacco con una grande demitinazione e' un'altra l'azione d'attacco è venuta scaluta della Cooper oh sto avanti 1 a 0 a segno del Paese ci sta ci sta maledetto questo vuole stava avanti merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara determinante il centrocampo che io ho ora sto guardando numero vediamo ancora Daron un numero Daron qua rischio ancora c'è altante attenzione ancora il torino il torino che c'è rigore cade giù rigore austria rigore austria devo fare il calcio rigore riguardiamo non si perde no alla base non si perde una 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 la per un come un pitbull va a prendere sto pallone vandic su bella giuda di vandic va 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 depai 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 editaria qua sbaglia depai delizio vandic vandic da iog vado a questo verandum verandum trova lui vado dragovic killis pack dragovic alaba kainz alaba raga se arriviamo c'è ben di scritti io io mi scrivo farò andrea live su twitch se si fa giochi lungo verso la natura quando sono da un bel quando sono da un certo con voglio fa l'alberto l'aspetta baila il compito di roma e sottotit viz posto però Qua, sbaglia l'ostra, tu zate te, io occupo la persona in the back, qua chiude, si salva l'ostra, Alaba, ancora c'è l'Alaba, Tregovic, con il passaggio è l'entrata, facendo 2 pai però, 2 pai, vengono subito, vengono subito, vengono subito, vengono subito, vengono paventa, rivediamo tutto, per chato però, oii, no. Io ho visto a mami, ho visto, ma ho visto una mano, vado a vici, 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 vada la propria lunga da ron che gola giro grande last di the pace bel gol di van de beck e c'è 2 olanda non lo vado più da la zara il paese è stanchissimo zabit la zona con la zona con la zona con l'hackovic prova c'è grave il posto è andate back la rete subita ha veramente la dolore la scossa un grande assisto di possono arrivare il gol la prima partita per l'opera per l'olanda scatto per l'opera di giro per l'obiettivo il tiro non è stato un gran giocatore passaggio di consiglio si investe il ora di un sole del bar un grande giocatore per l'avance noi la preda l'obiettivo per l'olio non parla la zona paolo verso scuola scuola per l'olio fa fai sfortunato con il ballo l'alzaro così salva l'olanda grazie a all'altro il gol per lui la difesa adesso sta lavorando un po' meglio da young fa l'olanda l'olanda su caizzi c'è delitto spiega di testa però non provo da ronna con il ballo si salva fortunato da ronna l'occasione per il controllo da young da young fa sbaglio da young non possono permettersi di perdere la concentrazione così paul laia la solta alzare trovo trovo per l'olanda fa sveglione andiamo c'è la norma di vantaggio ma lo so la barata buongiuda l'olanda colisca l'olanda l'olanda fa sveglia per il tuo cuore ma io vado guarda il back l'inter poi sbaglia l'inter a te pure è finita è finita vince 2 a 1 e vanno travi finita raga io ve lo dico ancora ci tengo faccio tante biscazione e vi potete iscrivere per favore al mio canale tanto è gratis per favore grazie a tutti mi piace io porterò un altro episodio ciao